Da un dramma in cui si perde un affetto carissimo come quello della madre, un'iniziativa per proteggere le vite degli altri. Qual è la vostra missione? Allora noi 10 luglio con un arresto cardiaco abbiamo perso nostra madre, proprio qui davanti al nostro negozio, in corso Umberto I a Termoli. La nostra iniziativa è fare una piccola raccolta fondi per acquistare un defibrillatore da poter dare alla cittadina di Termoli, ma soprattutto non da lasciare all'interno del negozio diventare una cosa privata, ma poterla lasciare 24 ore su 24 all'esterno del negozio. Possono usarle tutti in qualsiasi momento, semmai qualcuno spero di non ne abbia occorrenza. C'è il rammarico che se ci fosse stato l'anno scorso la vita di vostra madre sarebbe stata salvata? Allora, quel pomeriggio c'è stata tanta gente che hanno corso per cercare di salvare la vita di mia madre, io ero presente perché mia madre è venuta a mancare tra le mie braccia. Momenti che non dimenticherò mai, hanno preso il defibrillatore di Piazza Monumento, il defibrillatore chi dice che funzionava e chi no, ma per noi comunque non poteva essere salvata la vita di nostra madre perché mia madre era una portatrice di pacemaker, quindi ci hanno informato che purtroppo non poteva nemmeno essere aiutata con questo defibrillatore, ma con tutte le notizie che abbiamo sentito in giro di arresti cardiaci, di infarti, abbiamo pensato che semmai poter salvare il cuore di qualcun altro, per noi è come se avessimo salvato quel giorno il cuore di nostra madre. E qual è l'appello che rivolgete alla comunità? Un piccolissimo contributo, dal più piccolo al più grande, non chiediamo cifre grandi, quello che si può e se si vuole, anzi approfittiamo già per chi ha saputo della nostra iniziativa e già è venuto a mettere un qualcosa per iniziare questa raccolta. Da sottolineare che l'unico salvata nai autorizzato a raccogliere fondi si trova... Sì, soltanto nel nostro negozio, unico, in corso Umberto I, 75, presso il negozio di abbigliamento bambini Baby Fashion. Ricordo di vostra madre. È una persona fantastica, si è fatta sempre mille pezzi per tutti e non verrà dimenticata, però noi vorremmo fare qualcosa perché sia sempre presente con noi, è sempre presente qui nella piazza e a Termoli.